benvenuti al nostro nuovo videogiornale assemblea interdiocesana al centro le proposte della comunità un piano pastorale dal basso creato dai fedeli è l'invito del vescovo delle diocesi di assisino c'era un ragualdo tadino e di foligno durante i lavori dell'assemblea interdiocesana dal titolo qualsiasi cosa vi dirà fatela che si è svolta venerdì 7 e sabato 8 giugno nella chiesa di san paolo apostolo a foligno il programma pastorale ha spiegato il vescovo non sarà come gli altri anni ma sarà a cura dei consigli pastorali con la mia introduzione quindi ne avete di responsabilità per favore assumetevela tutta davanti allo spirito di dio davanti a gesù dobbiamo ripartire con l'entusiasmo della pentecoste ecco quello che mi aspetto da voi il contenuto del programma comune è stato sintetizzato dal vescovo che si è soffermato sul cosiddetto triangolo della crisi crisi del pensiero delle relazioni e della solidarietà da lui più volte illustrato nel corso degli anni sentiamo le parole del vescovo lotta all'individualismo bisogna aprirci ed è qui poi il percorso che dalle case arriva la parrocchia e può diventare la parrocchia una famiglia di famiglie tanti gruppi che non sono mai separati sono gruppi vivi il peccato che sta in relazione con il cuore che sta in relazione con le gambe tutto sta in relazione in un corpo e gruppi che sono gruppi familiari di intensità familiare intorno al vangelo per diventare gruppi che si fanno annuncio catechesi che si fanno animazione liturgica che si fanno presenza di carità che si fanno presenza nel sociale che fanno la carità politica come abbiamo detto l'anno scorso non dobbiamo riprendere ancora dopo la preghiera presieduta da don marco armillei vicario episcopale per la pastorale della diocesi di assisino ceragualdo è stato don giovanni zampa vicario episcopale per la pastorale della diocesi di foligno a introdurre il tema comunione partecipazione e missione per una casa felice modalità della corresponsabilità nella chiesa spiegandolo attraverso l'icona biblica della casa di cana ecco le sue parole tutti sono corresponsabili della buona riuscita o no delle nozze tutti sono protagonisti in un modo o in un altro della felicità di questa casa tutti allora tutti sono la cosa di un passaggio prima dei lavori di gruppo sulla proposta elaborata dai consigli pastorali diocesani don paolo asolan preside del pontificio istituto pastorale redempto rominis della pontificia università lateranense e professore di teologia pastorale fondamentale è intervenuto sulle modalità della corresponsabilità nella chiesa come partecipare alla promozione evangelica di una casa felice occorre innanzitutto non che ci formiamo e andiamo a fare delle campagne missionarie ma che lì dove siamo a fare quello che stiamo già facendo noi diamo e siamo preoccupati di dare la forma di gesù cristo perché destinare l'otto per mille alla chiesa cattolica la ristrutturazione di oratori campanilli il restauro di opere d'arte i pagamenti di parte degli stipendi dei sacerdoti il sostegno a progetti sociali e caritativi sono gli scopi per cui la chiesa utilizza l'otto per mille denaro dal gettito irpef che ogni cittadino contribuente anche chi non fa una dichiarazione dei redditi può scegliere di destinare a 13 enti tra cui appunto la chiesa cattolica abbiamo intervistato alcuni contribuenti che ci spiegano perché mettere la firma durante gli anni del liceo l'entusiasmo giovanile le ideologie mi hanno un po messo in crisi e mi domandavo che senso avesse firmare l'otto per mille poi nell'esperienza splendida che ho vissuto in mozambico guardando le tante strutture fatte anche attraverso l'otto per mille della chiesa italiana e adesso stando in una parrocchia che ha un oratorio splendido costruito anche grazie all'otto per mille che raccoglie tanti giovani di ogni estrazione soprattutto i più fragili capisco quanto è importante firmare l'otto per mille la mia esperienza è l'esperienza caritas quindi l'otto per mille permette di alla chiesa di attivare delle opere le opere segno come quella che abbiamo qui su foligno la mensa e l'emporio l'ospitale il dormitorio tutte opere che si sostengono attraverso l'otto per mille la chiesa ha bisogno del nostro aiuto ci sono le candele ci sono i fiori c'è la luce c'è il gas e noi non ce ne curiamo basta mettere magari un euro per uno già le cose potrebbero cambiare ma lasciamo perdere quello ci sono le strutture più grandi che c'è bisogno di aiuto davvero e noi con l'otto per mille mettendo quella firma essere cristiani significa anche questo responsabili di quello che noi abbiamo intorno a noi per vivere da cristiani sostegno per la conservazione dei beni culturali e di quanto è il patrimonio della chiesa che parla anche solo attraverso lo sguardo ad un'icona lo sguardo la visita ad una chiesa quanto è importante conservare quello che è un patrimonio non solo artistico architettonico ma di valoriale proprio per ciò che trasmette della storia anche credo che che questa donazione dell'otto per mille coinvolga sia la chiesa ma coinvolga anche tante persone bisognose vi ricordiamo di mandarci i vostri contributi audio video scritti e foto o per email ufficio stampa chiocciola diocesiassisi.com o tramite whatsapp al numero 339 1709 738